Dopo lo scivolone a Lecce, la Lazio si butta via con l'Empol da 2-0 al 2-2, biancoceleste a segno dopo 79 secondi, corner tagliato, Alberto Caputo devia di testa nella sua porta. Zagani spiega al diciannovesimo, una grande chance, ma si rifà al cinquantaquattresimo, firmando il raddoppio con un bel tocco sul portiere in uscita. Paolo Milinkovic Savic, decisivo vicario, che spiora finale clamoroso Caputo, accorcia il contropiede ottantadresimo. Marine pareggia con una stoccata dal limite. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao! Grazie! Grazie!